Questo tutorial mostra come trovare rapidamente i video registrati di un veicolo in base a una descrizione. Spesso disponiamo di pochi dati, come il colore dell'auto o un arco di tempo impreciso. Questo crea delle difficoltà. X-Protect Rapid Review risolve efficientemente queste difficoltà. In pochi clic potremo identificare l'auto sospetta per estrarre rapidamente le prove pertinenti. Supponiamo di aver già scelto le telecamere e l'intervallo di ricerca. Ora, applichiamo i criteri specifici per affinare la ricerca e trovare l'oggetto che stiamo cercando. In questo esercizio cerchiamo un furgone. Più precisamente, un furgone bianco. La ricerca avanzata multicamera presenta i risultati delle telecamere preselezionate al centro dove potremo esaminarli uno per uno. Per una ricerca ancora più veloce potremo avvalerci dell'esclusiva tecnologia Video Synopsys. A sinistra vediamo i risultati per ogni telecamera. Premendo Play vedremo simultaneamente tutti gli oggetti corrispondenti apparsi nel video in momenti diversi. Ciò consentirà di esaminare ore di video in pochi minuti o perfino secondi. In questo caso disponiamo anche di altri dati quindi possiamo filtrare ulteriormente i risultati. Sappiamo la sua direzione di marcia e che il veicolo viaggiava sopra i limiti di velocità. Quindi impostiamo la velocità e la direzione. Applicando i filtri la ricerca si restringe fino a identificare un solo risultato. Chiunque abbia provato a cercare tra ore e ore di registrazioni sa che è un lavoro estenuante. X-Protect Rapid Review è la soluzione ideale per rivedere e analizzare rapidamente i video e trovare subito ciò che cerchiamo. Grazie 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 a tutti.